Un'isola ecologica di ultima generazione, quella che verrà realizzata a Ragalna grazie ai fondi ottenuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Comune è infatti beneficiario di un finanziamento di 479.922 euro per ammodernare l'impianto di gestione dei rifiuti esistente. La relativa graduatoria definitiva è stata approvata con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Sviluppo Sostenibile e vede il Comune Pedemontano e Teneo rientrare fra gli enti beneficiari dei fondi. A consentire lo stanziamento è la Missione 2, Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, che prevede la realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e modernamento di impianti esistenti, come quello di Ragalna. In particolare nel Centro Comunale di Raccolta verrà potenziata la digitalizzazione nella gestione dei rifiuti urbani e verranno rafforzate le infrastrutture per la raccolta differenziata con ammodernamento degli impianti di trattamento, carta, vetro, organico ed altro. A lavorare sull'obiettivo l'assessorato all'ecologia retto da Giuseppe Longo, l'area tecnica comunale e l'ufficio PNRR.